Un caro saluto da Mario Giuliacci. Bene, oggi domenica arriva una prima perturbazione atlantica che schiamerà la strada, le correnti atlantiche in questa settimana mettendo fine a quell'antipatico anticiclone che ha portato caldo sull'Italia per tante settimane e dando avvio al vero autunno. Questa immagine satellite riproduce in questo momento appunto la perturbazione con la sua parte calda in rosso con la sua parte fredda in blu la perturbazione che già ha raggiunto la parte occidentale dell'Italia. Ma vediamo meglio la struttura di questa perturbazione qui alla quota di 1500 metri e vedete come l'aria più fresca in blu nel pomeriggio raggiungerà sia le regioni di nord ovest ma soprattutto le regioni centrali soprattutto anzi direi la Toscana, Lumbria e il nord del Lazio. Cosa porterà questa perturbazione? Bene, qui vediamo le piogge previste nel pomeriggio in verde laddove le piogge saranno un po' più continue in grigio laddove saranno delle piogge, dei rovesci o temporali molto brevi e molto localizzate e non ha detto che laddove ho messo il grigio ci siano temporali ovunque. Invece questa è la mappa che riproduce le piogge, le rovesce temporali soprattutto previste nella serata vedete qua e là su gran parte del centro nord e come al solito in grigio e temporali brevi e localizzati. Andiamo a vedere la probabilità di temporale prevista nel nostro modello, questo tra le 10 e le 12 le probabilità di temporale vedete che la Liguria è a rischio imminente di temporali in questo momento che sono le ore 11 e 30. Ancora avanti la probabilità di temporali tra le ore 12 e le ore 15 e qui vedete la probabilità di temporali elevata soprattutto sull'entroterra Ligure e qualche temporale anche sull'appennino emiliano. Andiamo a vedere ancora la probabilità di temporali più in avanti nel corso del pomeriggio, qui sono i temporali tra le ore 16 e le 18 soprattutto anzi direi tra le 15 e le 18 vedete temporali probabili molto probabili sull'entroterra Ligure soprattutto sulla Toscana, sull'interno della Toscana medio alta Toscana e su gran parte dell'Umbria. Ancora in avanti la probabilità di temporali nel tardo pomeriggio sera, qui siamo in probabilità di temporali tra le 18 e le 21, ancora qualche temporale probabile su Basso Piemonte, sull'Umbria, diciamo qualcosa anche forse sulle regioni alte.